I sogni? Chiudo gli occhi, un mondo diverso mi appare. Quanti sogni nella mia mente! Che bello sognare! Posso immaginare l'inimmaginabile, cullarmi nelle più irrealizzabili delle idee, gioire nello scoprire un mondo misterioso. Non si può descrivere quello che ti lasciano dentro. Continua a sognare, non costa nulla, ma ha un immenso valore. Io sogno, e tu?